Inter Milan vs Genoa CFC 1 aprile, 2012 Selmkensie Selzer Mkensie Autor, di, punto, Selzer, trattino, Mkensie Il mio suggerimento, vincete per il Milano In ogni caso una delle riunioni più interessanti del trentesimo giro della Lega Italiana dal solito programma di domenica dovrebbe essere quello che è giocato a Milano L'ottavo è esattamente circa 6 i posti peggiori FC Messi si incontrano tra Questi due gruppi hanno spesso porto in un'idea di calcio molto buona e con molti colpi malgrado la loro tavola un po' peggiore Plachings per essere più precisi A tra molto più ha avuto successo, avendo recentemente vinto in conseguenza anche 5 volte, tuttavia L'inizio, primo aprile, 2012, ore 15 e Il, Nerazzurri, ha preso quindi una vittoria domestica 2-2.1 contro la Genova anche all'inizio di questo anno nella Coppa Italiana Essi anche nel campionato con 1-2 punti 0 stato durando abbiate davanti a quello meglio ma essi hanno a giocare Luigi Gerardi sullo stadio alla Genova in quel momento Lo stesso è accaduto, come loro tra ha conquistato anche 3 volte anche l'anno scorso Siate particolarmente impressive e listato le loro due vittorie chiare dal Milano in cui gli ospiti hanno ottenuto anche 8 obiettivi Essi sono molto male le situazioni di questo gruppo ma ora poiché essi sono caduti secondo una serie di cattivi risultati Anche sull'ottava posizione nella Lega della Serie che a sostiene la Lega è recentemente stata eliminata anche dalla Coppa Italiana così come questo, durando L'anche cancellazione è aspettata a lungo di allenatore Rainer a cui ha raggiunto Juventus cioè dopo l'ultima sconfitta esterna quindi è venuta Il gruppo è condotto quindi fino alla fine della stagione del suo assistente precedente il 36 a Nostramaccioni Naturalmente è solo una soluzione provvisoria intorno così di nuovo poiché il presidente di organizzazione che Moratti ha annunciato cambiamenti di base L'estate prossima uno potente tra create e non questo solo, questo solo è sull'ottava posizione nella Lega della Serie e molto le piccole possibilità devono andare insieme a quello in qualsiasi competizione europea nella stagione successiva Ma finché c'è volontà di speranza Talanchi probabilmente lotta per lui di prendere l'addestramento C alla Lega Europa almeno Quindi possiamo attendere un gioco offensivo contro la Genova il che la lista annuncia anche con anche tre arrivisti Solo i giocatori di centrocampo Sneijder e Alvarez così come difensori Maicon non sono condizionale di ferita Lista attesa tra, Giulio Cesar, Zanetti, Lucio, Samuel, Nagatomo, Cambiasso, Poli, Stankovic, Morbido, Milito, Forland Essi riguardano quello da cui la situazione è a breve scadenza alla Genova, non ha vinto giri otto già Tuttavia, uno non può dire che essi giocano male, poiché essi hanno preso anche quattro tiri negli ultimi cinque giri Mentre essi hanno ritirato una sconfitta esterna da Romani esprima di due giri Anche il fine settimana scorso essi hanno preso solo questo punto letteralmente entro gli ultimi minuti E sebbene incontrare come i loro segnapunti di obiettivo migliore Palaccio per due 2.2 all'incontro in casa contro la Firenze Tuttavia, la sua fiducia in se stessi ha solo dovuto questo con quello rompere tra aumento ora fra breve prima di questa riunione Al Milano essi attendono sicuramente un gioco simile simile contro le, viole Perché deve tra abbiate una prova dopo il cambiamento di allenatori con uno un poco più gioco offensivo per raggiungere un risultato positivo Uno sa che i calciatori della Genova amano tali giochi in particolare poiché essi hanno molti problemi con i fallimenti dei giocatori nella riga di difesa recentemente Quindi l'allenatore non sarà in grado di calcolare Marino con l'offerite giocatori difensivi Granquist, Bovo e Antonelli così come giocatori di centro campo Cuca è costante anche questo Tempola Tuttavia, gli ha rivisti Iankovic e Sculli ritornano per questo ma essi probabilmente si sederanno sulla panca dei sostituti Poiché Belluschi ha dominato il suo lavoro in modo eccellente contro la Firenze Genoa di lista attesa, Freyr, Mesto Carvalo Caladze Moretti, Rossi, Veloso, Biondini, Belluschi, Gilardino, Palacio Dopo l'arrivo dell'allenatore giovane Stalamaccioni reagirà Resta per vedere ma noi siamo dell'opinione quello uno un poco più Il gioco offensivo dovrebbe causare progressi certi come i calciatori di tra e quello Essi prenderanno alle rovine di acqua di punto intere con cui essi starebbero nello Il correre per le posizioni di tavola superiori di nuovo questo tempo con quello Grazie 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 Grazie